Il sindaco Italo Boza in occasione del question time organizzato al travel trade di Rimini insieme all'assessore al turismo Enzo Di Lucia ha incontrato il ministro dei beni culturali e del turismo Dario Franceschini. Quando ho detto che sono il sindaco di Capaccio Pestum si è subito mostrato molto interessato, ha spiegato il sindaco Boza. Mi ha detto che ha voluto fortemente che Pestum divenisse ufficio autonomo perché è stato a Pestum e ce l'ha nel cuore dai tempi della scuola. Ha detto che la sua attenzione sarà sempre massima per la nostra zona archeologica ma mi ha spiegato che è anche un suo cruccio perché ritiene che non sia possibile che il sito archeologico con i templi meglio conservati al mondo non abbia più di 280.000 visite all'anno. Con la riforma del MIBAC e del sistema museale italiano che già legge il museo e gli scavi di Pestum diventeranno ufficio dirigenziale speciale con autonomia gestionale ed economica. Abbiamo invitato il ministro a Pestum per la Borsa Mediterranea del turismo archeologico, continua il primo cittadino Boza. Il 30 ottobre sarà a Napoli per l'incontro con i ministri del turismo europei ma non potrà venire perché deve ripartire subito a causa di altri impegni. Tuttavia mi ha assicurato che verrà a Pestum per incontrare me e i cittadini per pianificare il futuro di un territorio che considera tra i più importanti. Infatti mi ha spiegato che quando ha giurato come ministro ha detto che riteneva di dirigere il ministero più importante di tutto il governo da un punto di vista economico e che considera turismo e beni culturali due facce della stessa medaglia perché i beni culturali non possono essere separati dall'industria del turismo.